Dov'è mamma? Al lavoro, suppongo. Che te ne frega? Ma è festa questo weekend. Oh, accidenti! Mamma si arrabbiera tantissimo. Chi li manda? Faraday. Sei in punizione, sai? Vedi di non fare la spea. Ciao, sfigato! Oh, ciao! Wow, è cresciuto! Lo so. Cioè, è cresciuto parecchio? Stavo pensando a cosa potrebbe essere. Ho un libro sugli animali marini. Mio padre ce l'ha comprato per identificare i pesci che prendevamo. Non credo proprio che sia un pesce. Lo so, ma il mostro dei pescatori aveva una pinna dorsale, come Magnus. E hanno detto che cambiava colore. Da qualche parte dobbiamo iniziare. Ehi, ehi, seduto! No, sta fermo. Ehi, smettila! Ehi, smettila!